Buongiorno Terminal Starlux, esercitazione, 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 polex 2016, polex 2016, nave cisterna Baltic Chief One, rottura, braccio di carico, sversamento, prodotto a mare. L'inquinamento sta arrivando di là, quello che viene più veloce è quello appunto il mezzo veloce, mentre... mi piace, per laقطanza che veloce, sai che prima lo bravo, faccia pass kuno di terme diazi, per l Frankie Rhotel e starpa a Pintura, Grazie a tutti.